Il giorno è la storia. Oggi è il 2 agosto. 1980, strage alla stazione di Bologna. 1990, l'Iraq invade Kuwait. 1966, muore Fritz Lang. Comenta il fatto del giorno Omar Monestier, direttore del Piccolo e Messaggero Veneto. 2 agosto 1945, muore a Roma il compositore Pietro Mascani. 2 agosto di Pagliari. L'Iraq invade Kuwait. La storia è la storia. L'Iraq invade Kuwait.